Il giorno della Befana i carabinieri ridonano il sorriso ad una famiglia in difficoltà. E' successo tutto il giorno della Befana, quando, alle ore 8, presso la centrale operativa della compagnia carabinieri di Licata, agrigento, giungeva una telefonata di un uomo che si presentava come un vicino di casa di una famiglia in difficoltà. L'anonimo interlocutore ha spiegato che, all'indirizzo da lui segnalato, vive una famiglia composta da padre, madre, una figlia dodicenne ed un figlio di 5 anni, attualmente in totale stato di indigenza. Confermata la notizia, immediatamente al comando scattava una gara di solidarietà tra i carabinieri presenti che, raccolta una certa somma, veniva interamente utilizzata per acquistare derrate alimentari di prima necessità che venivano consegnate per il benessere di quella famiglia. L'azione dei militari dell'arma proseguiva segnalando la situazione ai servizi sociali del comune di Licata per una più puntuale assistenza.